L'importante successo per la Castellano Udas nella prima tranche del turno infrasettimanale del campionato di Segre C Silver. I biancazzurri, allenati da Luigi Marinelli nella quinta giornata di andata, hanno vinto il trasporto a martedì sera contro la Libertas Altamura per 96 a 64. La partenza della gara era stata molto indirubbata per le due squadre, tant'è che la prima equazione leve avanti di solo i due punti gli ospiti per vento con 19. Nella seconda parte è tutto uno show biancazzurro, anche se è bene dirlo i padroni di casa pur vedendo la qualità dell'avversario giocano comunque dignità e diranno ben coscienti che non sarebbe stato facile battermi. Il più 10 si conferma con la Castellano anche 10 minuti dalla fine della gara per poi chiudere con un più 32 che sancisce la conclusione del match. Adesso c'è poco tempo per prestugiare, poiché è in programma nella weekend la trasferta di Ostuni che giocherà giovedì sera alle 20.30 contro l'Olimpica Ecodania Basket e con un'impermeria ancora piena. Mimmo sera, speciale news.